Ciao amici di MyFootballJersey, quella che vedete oggi che sto indossando è la seconda maglia del Manchester City per la stagione 22-23, questa volta in versione player. La maglia da trasferta Puma Manchester City 2022-23 combina i colori Puma Black, Tango Red e Giallo. Il nero e il rosso sono gli stessi colori utilizzati da Puma per il Milan per le divise casalinghe, con l'unica differenza che il nero è il primo colore del City. La maglia trasferta Manchester City 22-23 non presenta le classiche strisce verticali nere e rosse del club, ma strisce diagonali, le prime nella storia del club. La maglia ha un colletto nero con scollo a V, con maniche nere semplici. Lo stema del club e di Puma e i loghi degli sponsor appaiono in giallo. Le strisce continuano sul retro della maglia. Avevamo già visto questa maglia in versione fan, trovate qui in alto la recensione, ho deciso di riprenderla perché secondo me è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, molto particolare questo bordino delle maniche che poi spero abbiate potuto apprezzare nel foto. Il costo lo vedete qui sopra? Veramente molto basso per una maglia fatta bene, con dei tempi di spedizione buoni, con dei materiali veramente diciamo qui pregiati. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito a vedere quali offerte vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Io nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.